amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video parliamo di un gravissimo incidente avvenuto oggi sul grande raccordo anulare a roma un incidente avvenuto all'incirca alle ore 15 un camion della frutta si è scontrato con due autovetture purtroppo il bilancio parla di cinque feriti di cui uno molto grave nei prossimi giorni nelle prossime ore comunicherete in ultimi sviluppi ciao a tutti